A poche ore dall'apertura di un'inchiesta sulla morte di Marco Del Cimmuto, l'operaio 33enne, folgorato da una scarica elettrica, dalla procura di Arezzo sarebbero già partiti e notificati cinque avvisi di garanzia. Tre riguarderebbero gli amministratori dell'azienda asola di Riva De Pelligni, in provincia di Chieti, la società del consorzio Italwork che aveva vinto un appalto per conto di Enel per il rinnovamento dei pali della luce per la quale l'operaio lavorava. Un altro sarebbe arrivato al coordinatore ed infine un ultimo all'operatore preposto alla sicurezza. Intanto oggi l'equipe di medicina legale di Siena, guidata dal professor Stefano Benvenuti, ha eseguito l'autopsia sul corpo del giovane. L'esame otoptico è stato disposto dal PM Andrea Claudiani, titolare dell'inchiesta, per accertare le cause dell'eccesso e capire se ci siano responsabilità specifiche. Il drammatico incidente si era verificato attorno alle 16 di martedì pomeriggio. Il giovane operaio si trovava alle vertighe di Monte San Savino assieme ad un collega. Avevano portato i nuovi pali per la linea della corrente da sostituire. I lavori di rinnovamento sarebbero iniziati il prossimo lunedì, ma intanto la ditta in appalto Enel si stava portando avanti con il lavoro, scaricando il materiale. Ed è proprio durante le operazioni di movimentazione che uno dei pali avrebbe inavvertitamente sfiorato i cavi dell'alta tensione. Il 33enne, che era a diretto contatto con il metallo, è rimasto così folgorato ed è ceduto dopo circa tre ore all'ospedale senese delle scotte. Sulla vicenda sono intervenute anche le sigle sindacali regionali FICTEM, CGL, FLAI e CISLE e WILTEC con un comunicato congiunto. Attendiamo le indagini in corso, leggiamo nella nota, ma da subito vogliamo ricordare con forza che c'è bisogno da parte di tutti a partire dall'azienda di fare più per interrompere questa inaccettabile catena di sciagure che non può in alcun modo essere derubricata a semplice fatalità. Il diritto alla vita di un lavoratore è un bene assoluto che per nessuna ragione deve essere cancellato e o subordinato a qualsiasi interesse o alla necessità di dover far prima.